Siamo nella zona San Costanzo, zona Tufi. Purtroppo oggi ho avuto l'amara sorpresa di aver avuto un attacco dei lupi a tre capre. Non è possibile, a 500 metri dal paese un attacco di lupi durante il giorno. Quello che ha più destato allarme è la vicinanza del luogo dove l'attacco dei lupi è avvenuto con il centro di San Costanzo. In linea d'aria sono solo poche centinaia di metri che separano il recinto dove le povere bestie erano custodite con la piazza dove si tiene la sagra polentara più famosa di tutte le marche. A questo si aggiunge il fatto che presumibilmente a giudicare dal rigor mortis in cui sono state ritrovate le carcasse verso le 17 di ieri non dovevano essere passate moltissime ore dall'assalto avvenuto secondo un calcolo approssimativo all'albeggiare del giorno. E' veramente una cosa gravissima perché poi pensare che a pochi metri dal centro abitato arrivano dei branchi di lupo dove combinano quello che è successo nel mio caso a me, ti sbranano tre capre, penso che non è una cosa da sottovalutare e penso che chi è di dovere dovrebbe prendere dei provvedimenti, dei controlli più importanti, più selettivi e di sicurezza per chi ci vive. Le due caprette che dovevano tra l'altro a breve partorire ed il montone si trovavano in un recinto metallico all'interno del terreno anch'esso recintato ma questo non ha impedito ai lupi, tre forse quattro di trascinare per diverse decine di metri le malcapitate bestie per farne scempio a poca distanza tra l'altro da un sentiero demaniale frequentato da cicloturisti ed escursionisti che alle volte alloggiano nelle strutture ricettive della zona e che lo utilizzano per diverse uscite ed escursioni anche di prima mattina. Altra cosa che non fa stare certo tranquilli i residenti del posto. Qui siamo nella Valle dei Tufi dove sono percorsi anche naturalistici che girano a piedi con le biciclette passano in mezzo ai boschi e quant'altro. Dopo questa storia siamo preoccupati perché è un fatto gravissimo di trovarsi di fronte a questi animali così pericolosi non è cosa da poca.